Expo Vending Sud 2023 continua, ci troviamo allo stand di Vending Service SRL e nello specifico nell'angolo dedicato agli erogatori di acqua zerica. Siamo in compagnia di Andrea Petrullo, il responsabile dell'area erogazione acqua. Buongiorno Andrea e benvenuto. Buongiorno, grazie, grazie mille. Allora Andrea, spieghiamo intanto qual è la storia di zerica, questi 86 anni passati a devolvere questo brevetto che è stato proprio creato dalla terza generazione ad andare indietro e che oggi trasforma questo marchio, questo brand zerica in uno dei più importanti al mondo in questo settore. Assolutamente, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda l'azienda zerica, un'azienda storica appunto che nasce a Palermo, a Termini Merese, storicamente la si conosce per la fontanella Zerilli e partendo da quella macchina che ha fatto la storia si è evoluta in questi anni. Sicuramente uno degli orgogli siciliani rappresenta la zerica, conosciuta non solo per il mercato italiano ma anche grazie a una forte presenza all'estero, soprattutto anche nel territorio spagnolo. Per quanto riguarda i prodotti zerica, in occasione di Expo Vending Sud abbiamo voluto portare tre degli esempi più importanti della gamma molto profonda che hanno in assortimento. Sicuramente abbiamo presentato la zerica futura, ormai una certezza del catalogo zerica che rappresenta non solo un'evoluzione ma anche una macchina che si va accanto alla fontanella Zerilli che permette in uno spazio molto compatto un'erogazione di acqua pulita, fredda, ambiente e frizzante. Questo permette naturalmente di stare al passo con i tempi del plastic free, evita i consumi di acqua eccessiva e permette anche ai gestori del vending di affrontare il tema dell'acqua in maniera abbastanza differente. Tra gli altri prodotti che abbiamo voluto portare, abbiamo voluto portare la zerica Supra che è una macchina che può essere destinata sia al mercato casalingo sia al mercato dell'OCS quindi anche per gli uffici. Grazie alla sua versatilità, con un'installazione totalmente sopra banco, la gestione è assolutamente semplicissima e anche in questo caso versatile grazie all'acqua ambiente e fredda o con l'aggiunta dell'acqua frizzante. L'ultima macchina che abbiamo voluto portare in questa fiera invece è la zerica columna touch, è una colonnina erogatrice dell'acqua che si lega agli altri macchinari che lavorano ordinariamente sotto banco che possono andare bene sia nel mercato casalingo grazie a una cucina che vuole magari avere un aspetto un po' più moderno, sia per il mercato comunque professionale che sia per l'OCS, la ristorazione e i bar. È interessante anche perché grazie allo schermo touch si ha una connettività maggiore che permette anche il controllo da remoto, quindi rientra nel progetto Industria 4.0. Quindi diciamo con questi tre prodotti abbiamo voluto portare tutto ciò che si può fare attraverso il marchio zerica e nient'altro. E' bravo Andrea, sei stato bravissimo al tuo esordio su Vending e Oreca TV, ma devo dire io ne approfitto dopo tante ore di interviste, giri, continui, studio su nuovi prodotti, non ti nascondo che la futura è stato il mio punto di appoggio vero e proprio, mi sono appoggiato sulla colonnina per riposare un po' e vedere comunque la sua robustezza, la sua eleganza e la sua bellezza che determinano davvero il grandissimo successo dei prodotti zerica. E dunque Andrea, per entrare in contatto con voi, per avere maggiori informazioni sui prodotti zerica, qual è l'indirizzo che possiamo fornire? Allora, oltre che a contattare la stessa zerica che rimanderà a voi per quanto riguarda il mercato siciliano, potete contattare la stessa Vending Service SRL, saremo in grado di fornirvi tutte le informazioni richieste e cercare di trovare quali possono essere i prodotti che più possono essere consoni a quello che cercate. A quale indirizzo e-mail? Potete cercare a marketing.vendingservice.it Perfetto, grazie Andrea. Noi continuiamo il nostro giro itinerante all'interno di Expo Vending Sud 2023 per scoprire nuovi prodotti realizzati nell'ultimo periodo dalle aziende della distribuzione automatica e destinati a tutti gli operatori del vending e dell'oreca e continuiamo dunque anche a salutare i tantissimi amici che finalmente andiamo a incontrare di persona. Grazie Andrea, grazie per la tua collaborazione. Grazie, buona giornata e buona continuazione.